Grazie a tutti. Ecco porto innanzitutto i saluti del direttore generale dottoressa Luciana Volta dell'ufficio scolastico regionale della Lombardia che non può essere presente scrivendo al mio dirigente dice gentile dirigente desidero intanto ringraziarla per il quattroese invito a causa di impegni concomitanti purtroppo non potrò prendere parte all'evento in parola che è stato organizzato con il prezioso contributo della scuola Polo per la promozione della lettura da lei diretta. Le rappresento comunque il mio più sincero apprezzamento per l'iniziativa che rientra a pieno titolo tra le azioni di carattere nazionale previste a favore dello sviluppo culturale e che conclude la formazione regionale sulla promozione della lettura destinata ai docenti della Lombardia. In attesa di una prossima occasione di incontro le porgo il mio saluto più sentito Luciana Volta. Ecco al tempo stesso anche la mia dirigente non può essere presente ma ha lasciato proprio uno scritto a me che io vi leggo e che riassume anche alcuni punti della formazione della formazione regionale. Sinceramente dispiaciuta per non poter essere presente a Milano desidero portare il mio saluto e il mio augurio di buon lavoro ai dirigenti, ai docenti e agli studenti che oggi si riuniscono a Milano per la seconda giornata biblioteche scolastiche organizzata assieme all'Associazione Italiana Biblioteche nella prestigiosa sede dell'Università Cattolica. Desidero esprimere il mio ringraziamento all'Ufficio Scolastico Regionale che nel novembre 2021 ci ha designato Scuola Polo Regionale valorizzando il fatto che il Gonzaga di Castiglione dell'Estiviere aveva contribuito a fondare e aveva guidato la rete delle biblioteche scolastiche mantovane. Fin dal primo momento ci siamo resi conto di due difficoltà da superare già in fase programmatica. La prima difficoltà nasceva dalla considerazione di non poter percorrere da soli il cammino della formazione in un ambito così specialistico. La seconda difficoltà nasceva dalla caratteristica che la cabina di regia attribuiva alla formazione regionale, ovvero il dover essere complementare rispetto alla formazione nazionale che aveva già dato un impianto molto solido ed estremamente qualificato. Per quanto riguarda il primo aspetto possiamo dire di non aver viaggiato da soli ma di aver avuto il fondamentale apporto professionale della rete delle biblioteche mantovane, delle cooperative Abibuc di Brescia, Carta, di Mantova, che ringraziamo di cuore per la disponibilità che hanno saputo offrire. Con AIB Lombardia abbiamo poi condiviso le fasi milanesi iniziali e finali della prima e seconda giornata biblioteche scolastiche. Mi permetto di dire che questa sinergia ha costituito un bel esempio di collaborazione tra la scuola e il territorio. È un modello da imitare. Per quel che riguarda il secondo aspetto, come essere complementari rispetto alla formazione nazionale? Ci siamo imposti di fare quello che la formazione nazionale non poteva fare, avendo più di 5.000 iscritti, ovvero incontrare i nostri interlocutori, lavorare il più possibile insieme a loro e fare rete. L'organizzazione di quattro eventi in presenza, in quattro differenti province lombarde, ci ha permesso di incontrare numerosissimi docenti. Le videoregistrazioni di sei lezioni presso altrettante biblioteche scolastiche ci hanno permesso di mostrare alcuni straordinari ambienti di apprendimento e abbiamo oggi la soddisfazione di vedere replicate a fini didattici queste lezioni. È capitato all'Archimede di Treviglio otto giorni fa, il 20 ottobre. Abbiamo partecipato a convegni organizzati dagli istituti e abbiamo visto nascere numerose biblioteche. Abbiamo avuto modo di dimostrare sul campo come la biblioteca sia un ambiente che favorisce i legami e la collaborazione e abbiamo avuto la riprova che questi legami costituiscono un valore aggiunto della nostra formazione. E mi riferisco in particolar modo al rapporto con l'Università Cattolica che ha portato alla realizzazione di una tesi di laurea della dottoressa Francesca Affer, la biblioteca scolastica, funzioni, storie ed esperienze didattiche. Il caso della Lombardia che ha avuto per relatore professor Luca Rivali e per contro relatore professor Edoardo Barbieri. L'approccio rigoroso della ricerca è garanzia di una seria lettura critica anche degli esiti della nostra formazione e dei punti critici da migliorare. Ma da docente di matematica permettetemi di affidarmi ai numeri. L'adesione già significativa alla prima giornata delle biblioteche scolastiche lo scorso anno, la partecipazione agli eventi in presenza con una media di 100 iscritti, il riscontro ha avuto in occasione delle molteplici proposte di webinar con punte di 350 partecipanti, il numero degli attestati di frequenza al corso che ha raggiunto le 400 unità e anche oggi l'adesione di 150 persone alla seconda giornata biblioteche scolastiche. Tutti questi dati ci parlano di un terreno fertile per poter continuare a proporre in Lombardia la biblioteca quale indispensabile presenza al servizio della didattica e al servizio di una più consapevole acquisizione da parte degli studenti di una cittadinanza attiva. Con questa convinzione auguro a tutti un proficuo lavoro. Il dirigente scolastico Leontina Veliana Di Claudio. Ecco, la lunga lettera della mia dirigente, questo resoconto, mi permette di sorvolare sui primi due punti della mia relazione. Si parlava di percorso e di esiti e poi di aspettative. Il percorso l'ha un po' delineato la mia dirigente. Aggiungo soltanto che è stato un periodo relativamente breve, se noi ci pensiamo dal febbraio del 2023 al settembre di quest'anno, il 2023, ma anche molto intenso per l'ambole di legami che si sono creati. Quanto agli esiti da insegnante di una certa età, mi permetto di dire che mi sono abituato a considerare gli esiti non soltanto immediati, ma anche gli esiti nel tempo. Io spero che magari qualche cosa venga dimostrato anche nel tempo. La dirigente scolastica sottolineava le potenzialità della biblioteca come servizio all'interno della scuola. Io ci terrei in primo luogo a porre la vostra attenzione su questo termine, servizio. In quanto ogni volta che si preannunciano novità nel mondo della scuola, queste vengono percepite come un impegno aggiuntivo da adattare alla mole di lavoro che già c'è da fare. La biblioteca costituisce una grande risorsa che si pone al servizio. Prima di tutto al servizio. Pensiamo al servizio dell'inclusione, al servizio dell'educazione civica, al servizio dell'intercultura o dell'interdisciplinarietà. Oggi, per esempio, è al servizio dell'innovazione orientativa. Può essere un aspetto estremamente utile. E nel futuro, io sottolino, la biblioteca scolastica potrà e dovrà svolgere un servizio sempre più importante e necessario di filtro nella marea di informazioni da cui siamo bombardati. La biblioteca può assumere queste informazioni e trasportarle al mondo della scuola in maniera filtrata e coerente con il mondo della scuola. Quali aspettative abbiamo rispetto a questo servizio? Io vorrei sottolineare soprattutto quello che emerge da un nucleo ampio di docenti impegnati in questo settore. E la mia prospettiva, sottolineo, è più dal basso che dall'alto, dal basso di docenti che stanno lavorando per le biblioteche scolastiche. Stanno lavorando con la consapevolezza di due limiti. Sono molto contento di questo intervento dirompente dell'iniziale, perché l'insegnante che lavora per la biblioteca ha la consapevolezza di non poter garantire continuità e professionalità. Sono i due punti fondamentali. Se non si può garantire questo, resta la buona volontà, restano le bellissime iniziative. E io di questo cercherei di parlare, perché quelle bellissime iniziative devono essere valorizzate. Devono essere valorizzate. Intanto, se si parla della scuola che si vorrebbe, io direi che la scuola che questi insegnanti che lavorano per le biblioteche desiderano è una scuola che esca dal guscio della autoreferenzialità. Capita a volte e molto spesso alla scuola di parlare di se stessa a se stessa. E questo è rassicurante da un certo punto di vista e nasce anche da una idea base fondamentale, dalla non volontà di mettersi in primo piano, di mettersi in mostra. Però teniamo presente che questa autoreferenzialità penalizza la scuola ad una dimensione che non ti espone al confronto, alla critica, che può essere estremamente costruttiva da tanti punti di vista. È attraverso confronto e critica che può avvenire la crescita. Altrimenti uno rimane chiuso nel proprio guscio. Durante questa formazione abbiamo fatto vedere alcune biblioteche. Le abbiamo proprio mostrate, le abbiamo registrato all'interno delle biblioteche e delle lezioni e abbiamo fatto diffondere proprio queste videoregistrazioni. Perché? Ma perché mostrare queste biblioteche significa mostrare dei luoghi in cui è piacevole apprendere, che sono piacevoli anche da vedere. Significa anche dare attenzione e sollecitare una maggiore attenzione all'arredo. Ma perché nell'ambito della scuola l'aula deve essere sempre l'aula, è simile a se stessa, non può essere abbellita. La biblioteca è il luogo in cui ci può essere anche un abbellimento, una cura dell'ambiente. Va bene. Teniamo presente che da questo punto di vista è interessantissimo valorizzare la creatività dei ragazzi. Quando li porto in biblioteca e loro si siedono come se fossero in un'aula, io dico, beh, adesso sistemate la biblioteca come preferireste. E trovo sempre delle sistemazioni differenti. Questo perché la loro creatività ci può aiutare. Ma attenzione, molte altre iniziative devono essere diffuse e possono diventare dei modelli. Se un gruppo di ragazzi, assieme ai propri docenti, riesce a realizzare un concorso di scrittura per studenti, con una giuria di docenti e studenti, come è avvenuto a Romero di Albino, qui c'è presente Giorgio Vedovati, dove si è realizzato il concorso Ali di Carta, Beh, io credo che questa dovrebbe diventare, questa iniziativa dovrebbe diventare un modello. Dovrebbe essere maggiormente conosciuta. Se, come sta avvenendo al Vittorio Emanuele di Bergamo, sulla base degli studi di Loredana Vaccani, non so se è presente, ma credo che dovesse arrivare anche lei oggi, se sulla base di questi studi, molto attenti di Loredana Vaccani, Caterina Samà sta conducendo un'azione di risistemazione del materiale, credo in accordo anche con l'archivistica, di risistemazione del materiale posseduto. E sta facendo al tempo stesso il lavoro che una volta si diceva di scarto. La parola scarto, nell'ambito dell'insegnamento, crea spavento, perché significa, io non scarto mai niente. E non si capisce che in realtà lo scarto è la prima operazione per valorizzare quello che si ha, per metterlo in circolo e per usare il bene libro, per usarlo al meglio. Altrimenti noi abbiamo un magazzino, non qualche cosa che è una biblioteca, che può fungere da biblioteca. Continuo. Se nella biblioteca Calvino dell'Istituto Gino Strada di Casirate si attivano progetti di coding in biblioteca, si dovrebbe anche qui favorire una sorta di contagio positivo. Perché non saperlo e non cercare di imitare questa situazione? Addirittura nell'ambito della nostra formazione abbiamo avuto un momento finale in cui noi chiedevamo ai corsisti di mandare un progetto. Quindi è stata una fase attiva da parte dei corsisti. E io queste indicazioni le ricavo proprio da quelli progetti. Ci sono progetti anche molto avanzati. Quella di Cinzia Boschiero, per esempio, è un progetto di collaborazione con l'Associazione dei giornalisti scientifici e dell'Unione giornalisti scientifici per la valorizzazione delle biblioteche e delle videoteche. È un progetto che sicuramente dovrebbe essere conosciuto e diffuso. Ripeto, o non ho parlato di tutte le iniziative di cui sentirete parlare oggi. Tra queste, di che cosa sentirete parlare oggi? Parleremo di un convegno su Fenoglio realizzato da Rigoni Stern con l'apporto del territorio e dei ragazzi. Sentirete raccontare il caso di una biblioteca scolastica che a Cantù diventa biblioteca di quartiere e crea, tra le altre cose, una sorta di contagio positivo per cui i quartieri vicini pensano di fare una biblioteca come la biblioteca di questo istituto comprensivo. E addirittura sentirete di una collaborazione internazionale tra un istituto di Castiglione dell'Estiviere che per organizzare un testo teatrale visto il gemellaggio con la Gonzaga in Florence organizza questo spettacolo con i ragazzi che recitano e un coro di Spokane nello stato di Washington che al momento opportuno arriva in Italia e c'è questa rappresentazione collaborazione internazionale. Sarà con noi tra l'altro Jason Houston nel pomeriggio proprio per dimostrare che questa collaborazione oggi siamo abituati al virtuale non è stata virtuale, è stata reale è stata proprio una collaborazione notevole. Allora sono casi positivi che se conosciuti possono suggerire altre buone pratiche magari più originali perché attenzione quando ci si propone come modello ci si propone anche alla critica ci si espone anche alla critica ma va benissimo va benissimo per poter crescere se conosciuti e aggiungerai se ricordati alle biblioteche scolastiche si chiede anche di essere luoghi della memoria di azioni recenti guardate che noi docenti insegniamo che non c'è un futuro senza un'attenzione al passato ma forse abbiamo scarsa attenzione verso la narrazione e la documentazione di ciò che abbiamo realizzato nel recente passato che cosa sappiamo noi di cosa è stato fatto negli ultimi anni e quando facciamo un progetto ci poniamo il problema di partire dalla storia storia del nostro istituto questo costituisce un limite straordinario per la crescita e la biblioteca può essere da questo punto di vista il luogo di una memoria ma non di una memoria antica di una memoria anche recente per l'identità stessa della scuola perché spesso questa identità e questa realtà non la si conosce non la si conosce e non ci sono strumenti per conoscerla ma io sono convinto che oltre a favorire la diffusione di buone pratiche aspetto che può venire dalla costituzione di una rete di biblioteche scolastiche e oltre ad essere il luogo in cui si valorizza il proprio recente passato le biblioteche scolastiche possono svolgere anche un ruolo importante per favorire uno sviluppo omogeneo di tutte le innovazioni guardate il mondo della scuola è complesso e spesso si chiede a questo mondo di realizzare delle novità in tempi molto brevi senza declinare le novità nelle dinamiche già consolidate tutto questo fa prendere la novità e potete essermi testimoni fa percepire la novità spesso con diffidenza o di un'altra cosa nuova sviluppando uno sviluppo creativo finalizzare a dribblare la normativa ad allontanarsi dall'idea di base a fornire interpretazioni autonome io dico che di fronte alla alle novità ci si comporta sempre con una indole centrifuga tutti cercano di fuggire dall'idea centrale e invece la biblioteca può realmente per sua natura funzionare una biblioteca funzionante ovviamente può offrire sulla base di una precisa documentazione anche uno strumento di sintesi di analisi critica del lavoro svolto e di continuo stimolo al miglioramento e accogliere il meglio delle novità normative il meglio di queste novità appunto nella capacità anche di darsi delle tappe in tutti questi settori che ho detto le potenzialità che vengono dall'impegno di docenti sono tante la volontà di lavorare è enorme ma diciamolo con molta franchezza la sola buona volontà non basta non basta più le leadership di pochi docenti continuano ad imbattersi nel deficit di professionalità che impedisce di garantire continuità all'azione svolta dubito guardate che questo deficit possa essere colmato da nuovi finanziamenti per una nuova formazione non è questo non è questo io ritengo invece che ci sia un terreno fertile pronto per avviare come si sta facendo in abruzzo come si è fatto in abruzzo come si sta facendo in lombardia in liguria e in altre regioni una rete regionale lombarda sulla base dell'impegno di dirigenti di uffici provinciali di ufficio scolastico regionale di forze sindacali per garantire una biblioteca in ogni scuola come recita il recente progetto ministeriale riconoscendo a ciascuno un reale una realtà professionale una reale professionalità di fatto ecco questa professionalità di fatto deve essere riconosciuta a seguito anche di una formazione è il principio fondamentale attraverso il quale ci può essere un dialogo con le istituzioni altrimenti il dialogo non riesce a iniziare con un'operazione complessa mi rendo conto che l'operazione è molto complessa in Lombardia più che in altre regioni ma con un'operazione complessa ma fattibile potremmo verificare ancora una volta che nei libri anche per l'attività scolastica non si legge soltanto la memoria del passato ma si possono trovare fortissimi stimoli per la scuola del futuro e un effettivo benessere generale io vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie